Sono circa 50 anni fa che ho iniziato e la prima chitarra me la regalò papà per la quinta elementare era una chitarra classica però montava delle corde di metallo, ahimè allora i Beatles si stavano sciogliendo e cercavo di produrre per esempio anche le loro canzoni poi però arrivò un insegnante per me molto importante mi disse appunto, diceva, ma iniziamo a fare chitarra classica e io ho già sentito a casa di mio amico dei dischi di Segoia e ovviamente rimasi affascinato da questo la chitarra classica può essere anche propedeutica da altri tipi di stili pensiamo al brasiliano, pensiamo al finger picking quindi è anche molto bello perché quel mondo può essere approfondito anche da amatore, da ascoltatore e non solo da studioso questa parola che da noi si usa suonare in altre lingue sappiamo bene che indica invece giocare grazie a tutti